Turismo religioso che impatta con l'effetto del coronavirus tra visite cancellate, devoti e pellegrini che disdicono a raffica in un calo vertiginoso di presenze. A Lanciano, che conta circa 150.000 unità all'anno in visita al santuario del miracolo eucaristico, nell'ultima settimana il calo è stato drammatico con conseguenze negative che si ripeteranno anche nelle prossime settimane. Disdette che arrivano dalla Sud Corea, il paese che più dopo la Cina ha subito il contagio, poi Filippine, Indonesia, Brasile. Intere comitive hanno deciso di restare a casa annullando viaggi programmati da tempo. Per quanto riguarda l'Europa non si vedranno polacchi, tra i più numerosi a Lanciano, e ancora bulgari, francesi e tedeschi. In visita al miracolo si è recata ultimamente solo qualche famiglia italiana, ma tante altre hanno deciso di rimandare a tempi migliori. Massimiliano Di Paolo coordina tutti i pellegrinaggi al miracolo eucaristico. Stanno un po' tutti cancellando. Ecco oggi abbiamo un gruppo di filippini che comunque hanno confermato vengono, forse non so, già stavano in Italia. Adesso ho avuto una signora americana nel Texas che sta in chiesa. Per loro i pellegrinaggi organizzati quasi tutti nel breve periodo cancellati. Beh dalla Corea l'agenzia più grande ci ha cancellato tutti, per adesso ha abbandonato i pellegrinaggi, quindi ci risentiremo a breve. In più i pellegrinaggi italiani nell'imminente tutti cancellati come ho visto dopo Canzi. Nell'ordine si parla di centinaia e migliaia di presenze? Non saprei, perché purtroppo per adesso, per fortuna, stanno cancellando solo a breve, quindi vedremo un po' nel divenire. Forti preoccupazioni che si estendono anche a chi ha investito sul turismo religioso, souvenir libri e oggettistica religiosa per ora rimangono sugli scaffali. Stiamo notando anche noi per quanto riguarda il turismo religioso un'assenza di pellegrinaggi relativi al miracolo eucaristico qui a Lanciano, soprattutto i gruppi più consistenti che fino all'anno scorso arrivavano in città erano del sud della Sud Corea e delle Filippine, quindi dal sud-est asiatico prevediamo delle presenze molto poco numerose, diciamo. Noi speriamo negli italiani che di solito a maggio arrivano per le prime comunioni dal sud Italia, dalle regioni limitrofe, almeno su di loro cerchiamo di puntare nei fini settimana.